Muori bastardo muori 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 bastardo muori Lo devo fare per la scienza Vado eh Ok E alu E alu E alu No ragazzi va No No Cavolo Da la frutta L'uovo misterioso Ci ho ripressati La collezione di farfalle Volete venire a vedere la mia collezione di farfalle E dai Ho tante belle farfalle Un poster Un treno originale Eh L'ho fatto io Il doppiaggio Una persona cattiva Oh è una persona cattiva Normal Non avete visto niente voi Voi non avete visto Nulla L'ho fatto volare di sotto L'ho fatto volare di sotto Si è aggrappata la nostra nave L'ho ucciso L'ho ucciso Vai Rieccomi ragazzi Scusate l'attesa Aspettate Un secondo Eccoci Siamo pronti A provare questo Fall Guys Ragazzi Ma posso Già ho qualcosa Merdeo Con i cuoricini No Con i fulmini Perché andiamo più veloci Con i fulmini Perché andiamo più veloci Ragazzi Ah no Non mi piace Big Bad Wolf Però Nah Va bene Va bene così Eh Sì però io non so Non so i tasti Eh Salto Dive Grab RT Ok Ok Vediamo un po' Ragazzi Cioè Comunque Ripensandoci Che peccato Quante cose Volevo vedere Su Hellpoint Ragazzi Però si La prossima volta Ci facciamo Magari una build Tipo che ne so Da mago A distanza Con i fucili Ci sono rimasto Veramente Veramente Male Uh Vero Marco Bell'idea Marco Grande Magari ci organizziamo Tipo la sera Bell'idea Marco E poi mi sa Che si può fare Fino in quattro Eeeh Eeeh No Sono caduto Ah Ah No no Palle giganti No Au Ah Palle gigante Au No Ok Ah E dai Ma è riuscita subito Lasciami Ah 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 No Palla Palla Via No Sono caduto Ah Ah Mamma mia Chi siamo Chi siamo Ragazzi Chi siamo Top Top 50 Cioè Easy Ciao Annesi Sari Buongiorno Come la va Tutto bene Door DoorDash Alcune sono vere Altre sono finte Uh no Scusa Paolo Non ci ho fatto caso E che Secondo Il secondo monitor Che ho un po' Piccolino E quindi Sta praticamente Tutto sovrapposto Eeeh Questa è vera Questa è vera Questa è vera Lo sapevo che era vera Ok Ok Lo so Questa è vera Posso No È questa No Qualcuno mi ha colpito Lasciami Lasciatevi Perché cado No Cavolo Ah Ciao Andy Ah L'ho presa Corri Corri Mamma mia Mi sembra giusto Vabbè ma Perché tu devi Ovviamente Devi testare Il prodotto Ebby Per vedere Se è all'altezza No Almeno Quelle 200 300 ore Cioè Giusto Per star Sicuri Eh Slime Climb The Rising Slime Quindi c'è La Milma Che sale Come sto Sto bene In verità Vorrei una Birretta Ebby Mi metterebbe Una birretta E Eh Esatto No No Togliti Togliti Fatevi Schiva 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 No 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 Errori sono stati fatti Errori sono stati No 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 Dai Mi ha buttato Mi ha buttato Un ciocquello Non è Giusto 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 Vabbè Ma dai La prima partita È di riscaldamento C'è Oh dai Solo 81 punti Ho vinto due round Ma com'è solo 81 punti Ma dai Due round Ho vinto Esatto Ebby Gente che affoga Nella melma Gente che precipita Nel vuoto Ecco Che viene falciata Dai ventilatori Ma certo Paolo Volentieri Eeeh Ok No Combiene andare a destra A destra A destra A destra Mal A destra Salta 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 Oh salta Ok Ok Ah Ok No ma Ok No si col cavolo che io vado al centro Ma non se ne parla proprio Ah No Che brutto tempismo ragazzi Ok Salta Vabbè andava bene salta Salta Ce lo faccio Ah ce lo faccio No Aspetta No Lasciami Lasciami No Vattene 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 Questa Questa non l'abbiamo mai fa Cioè ne abbiamo fatte Ma pensavo quanti schermate sono Io pensavo fossero poche No Nooo guardate all'inizio che ci sono Nooo guardate all'inizio che ci sono i I Le I tronchi girevoli della morte Nooo Ok No Passo qua Ah No aspetta 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 Fatemi passare Fatemi Fatemi passare Ok No Voglio passare al centro Ok No Ah Ah Nooo Nooo Ok Ok Uh Uh Eh no Viene Viene resettato tutto Abby Ah Mamma mia Stavo quasi per essere eliminati Era tutto calcolato Abby Per Per dare un po' di brivido No Così la chat dice No Mal non ce la farà E invece Sì Ma che sia Nooo Non ce la faremo mai Ah Ok Ah Arancia Ok Arancia Ok Ok C-ci-ci-ciデ... Cilinia Cocco Ok Forse è meglio quest'altra Cilinia Cocomero E-oh Banana non lo so dov'è No Oddio Mi sono fidato di io Ok Ci sono, ci sono Ci sono Zada Tenkar ma grazie mille del ride Gentilissimo ragazzi se non l'avete fatto Mi raccomando date a lasciare un bellissimo Follow a Tenkar Ciao Dev Buongiorno Che cos'è Jump Club? No ma che siamo matti Oddio ragazzi No Questo è da suicidio Ah perché uno va più veloce Taglieti Vai passare Fatemi passare Aiuto Taglietemi Ok Lasola Dovrebbe essere No No Maestria Au Ok Ah Oh 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 Seconda partita Ragazzi Oh Siamo una squadra Ok Spingete Spingi Spingi da bene Non mi tenere a me Spingi Siamo indietro Siamo ultimi Spingete Spingi Tipo 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 No Guarda è colpa del Leo È colpa del Guarda quello Avanti Avanti Scanza fatiche Forza Forza Vinge più forte No Corri Corri Tagli una spinta Stiamo indietro Stiamo vincendo Spingo 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 forte Che cos'è Che cos'è Uh c'è la corona Ok ok la corona sarà mia Corro Ma son caduto Ma son caduto Son caduto da solo No aspetta Allora intercetto Intercetto Ok Sono ultimo Ma gli ultimi Saranno i primi Ragazzi No Ok 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 Posso recuperare Posso recuperare Ragazzi È tutto sotto controllo È tutto sotto controllo Recupero Non è stato preso a parte La parte Oddio Oddio Ho le lacrime Non lo aspettate Perché Forse i fulmini Adesso è meglio Le strisce Tipo da Ok Oh mio dio Che roba assurda Ancora Ancora Dai dai Questa volta Ce la facciamo Questa volta Ragazzi Sicuro Vero Ma è che io voglio Mi sei Lo sai Lo sai qual è il problema Cesare E che non c'è un vestito Con le fiamme Perché le fiamme Si sa che mi fanno Anche i fulmini Ha forse però Fatto male a togliermi Guardate quanto è carino Questo tutto nero Con la M No Sembra tipo un elmo Un atti Un elmo Non lo so Quello ha la testa di Di dinosauro La voglio anch'io La testa di dinosauro Davo neanche io Eeeh Ok Ok Oh No No Mamma mia No Mi ha trattenuto Senti quello mi ha trattenuto Ma come si è permesso Passo io 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 Spingi No Ok Ci sono Aspetta Fushu Fushu Togliati Fushu Fushu E' quando Praticamente Sfrecci No Serapo Quando sfrecci Fai Pichu Pichu Tipo Tutto quello che sfreccia Fa Pichu Erano più gentili Quelli della fortezza Di sé Nebby No Non ho visto Va bene Ah è quello di prima Ok No no Ci sono Ci sono Allora Questa 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 Si è sentito Proprio Stud Ok Ci sono Questa 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 Lo sapevo Carri Carri Ma Tutto quello che sfreccia Dev Quindi sì Anche i proiettili Ma non lo so Ebby Non penso Siano Animali Perchè 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 Poi hanno Delle facce Strane Ok 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 No Ce n'è uno Rosso Ah Ce n'è uno Blu No ce n'è uno Verde Ah Ok No No Mi stanno inseguendo No Andate bene Andate bene Au No Vattene 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 Oddio No Non volevo Non volevo Errori Sono stati fatti Ah No Mi ha Rompato Voglio Una coda Dov'è Dov'è Uno con la coda Cavolo L'avevo tenuta Per così Tanto Tempo Insegui Quello Pradigli La coda Lasciami Non ho La coda Io Che Che Di Il Qua Dov'è 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 Dammi la coda Dammi la coda Otto dammi la coda Otto Vedi qua Palla la coda L'ho rubata L'ho rubata L'ho rubata Easy Ok ok ci siamo ci siamo Senti come Come domina col bus Oh no ok 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 No no ce lo posso fare ce lo posso fare Adesso sono più esperto Sono più esperto ragazzi Sono più esperto Ah Oh Nasciami perché mi Mi deve prendere Ok Che cavolo No aspetta Aspetta ora No e mi hanno Stardi Che mi No Ok Ora Ok Lasciami Lasciami Ok No 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 E dai Sono scivolato La fine No Oh Cavolo Eh che carino E' tutto eccitato Oh Oh si voglio quello zebrato Allora ragazzi Datevi Tre minutini Che Mi sistemo per Far squadra con Paolo Unnecessary pixel Tanto se Vi raccomando Se non l'avete fatto Andatevi a lasciare Un bellissimo follow Adesso Ci vediamo tra Pochissimo Eccola Eccola Ah Malfidati No Dai Trivellone Ah 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 Allora Vediamo un po' Pittogrammi Indecenti Pittogrammi Indecenti E' fantastico Pittogrammi Ce la facciamo Sì, abbiamo anche finito Della donazione mi ha preso un infarto Scusate, non dovrei ridere Scusate, non dovrei ridere Scusate, non dovrei ridere Se qualcuno la chiama strada Non è neanche un sentiero Eccoci Va bene, oggi facciamo Fall Guys Ve lo dico subito, siccome l'altra live Sta aspettando me che lanci tutto Direi che è il caso Che io lanci tutto Lancia tutto Mi lancerò come un fesso Per gran parte di questa live Giusto, però se lo faccio vedere anche alla chat Magari Se non vedono solo il mio faccione Così potrebbe essere un improvement Della live Come no Ari Wiley Clip E io? Allora, ci sono Adesso Mi invito tu Ti inviti tu Mi invito io Chi invita chi? Ti invito io Cioè ci provo Vediamo se Mal è un po' basso rispetto a te Mal è un po' basso rispetto a te Mal quanto sei alto? 1,75 1,76 Ma no, allora più o meno siamo Col cavolo che mi fai invitare Cioè non mi apre assolutamente nulla Allora, io dovrei poterlo fare Ti invito io Aspetta che abbassa ancora un po' l'audio Che poi è un po' invasivo l'audio Lo sentite meglio Malva adesso? Prova a dire qualcosa Malva? Dico qualcosa Ok, ti vedo con delle barre che si colorano in maniera senso Ma perché? Che cosa che? Ma perché? Da dove dovrebbe arrivare l'invito? Che ne so? Io ti invito da Steam Da Steam? Da Steam Amicici Vediamo un po' Amicici Noi siamo amici E quindi io ti invito su Steam Allora io doppio clicco Faccio gioca Eccolo Mamma mia La tecnologia moderna Hai visto? L'incredibile tecnologia moderna Allora posso fare un messaggio di servizio Paolo? Anche per la tua chat Vai, puoi fare tutti i messaggi di servizio che vuoi Allora ragazzi Quella che state vedendo È la technical beta di Fall Guys La technical beta durerà oggi e domani Il gioco ufficialmente esce il 4 Cioè tra tre giorni Ed è gratuito su PlayStation Plus mi sembra Su PC costa Bsebra sui 20 euro Si costa proprio un'inezia ragazzi Quindi Ehm Hanno già detto Perché ho sentito prima in live da te che te lo chiedevi O che lo chiedeva qualcuno in chat Ti aggiungeranno skin e livelli a manetta Dopo il lancio Eh infatti Ci vogliono Ci vogliono Ah che poi oltretutto Le cose guadagnate nella beta Verranno resettate Al momento del lancio Assolutamente sì Quindi non avrò più questo colore bellissimo Il colore caramella No verde O per me è verde O tutta la vita Sei pronto? Io sono sempre pronto Facciamo vedere Come gioco Allora ragazzi Ve lo ricordo Andate a lasciare un bellissimo Con la Paolo Mi raccomando Andateci ora Voglio sentire Paolo Che ringrazia mille mila persone Non c'è no Grazie mille mila persone Però I solerti mod Faranno di shout out Il tuo canale Nel corso della live Sono molto Mi dico che sono molto fashion Ciao Inokil Ben arrivata C'è una ragazza qualunque Allora Sei pronto? Io parto dietro Io sono in prima linea Io comincio malinno Buonissimo Permesso 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 Social distancing Grazie Uno mi ha fatto cadere Ma chi è che lo spingo Non faccio niente Già tanto se Passo io Passo le cose rotanti Sì sì Ma spingete anche voi Non faccio tutto a me No Passetta Il centro aperto Sono il leccaleccarotanti Leccaleccarotanti Ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio Affronto la saponata Ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo Tuffo No c'è uno che mi ha tenuto Ce la faccio ce la faccio ce la faccio Miratolo Quindi quando se ti interessa Non so perché ci sia Morgan Freeman Che gioca Aff A Fall Guys Vabbè perché Non può giocare Morgan Freeman A Fall Guys C'è anche troglodita schignone Se è per questo Però C'è anche patata radiattiva Scusa troglodita schignone Molto bello Troglodita schignone è la super Badaggia Oh le porte Il grande Nick Esattamente Ok Allora io Dove sono io Ok Io punto sulla terza La terza è quella buona La terza è quella buona È buona Questa 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 Ok Mi ribaltano Vado 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 Questa Oh l'ho presa Bravo bravo Ho visto passare davanti a me No No La seconda La seconda La seconda La seconda La prima No c'è un ostacolo Si è generato un ostacolo La barriera architettonica Vado 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 Uuuu No Fatemi scendere Corri 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 Ce la faccio Ce la faccio Corri 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 Tuffo Andato Ce l'hai fatta? Si Grande Trentunesimo Ma ce l'ho fatta Ma c'è ancora Com'è troglodi da sci Ah ok C'è ancora Cioè si è salvato Troglodi da sci On Troglodi da sci On for the win Però vorrei notare il suo gusto Nelle strisce Questa ti dico che non l'ho mai superata No neanch'io Perché sono arrivato Ecco a questo qua A quello dove ci sono quelle specie di Non lo so Cose che girano Quindi sono arrivato un po' più avanti di te Ma poco Allora Se voi vi suicidate tutti Io sono più contento Ve lo dico Permesso No Le palle 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 Ok Andiamo a seguire malvaisso Vediamo se lo proviamo Ora 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 No No Ah Ora Ora Non si arrampica Non si Ok Non vedo Ah ah Uno sforzo notevole Ma dai C'era arrivato C'era arrivato No Non adesso Ora Ok Oh è arrivata la melma La melma è arrivata Non puoi più sbagliare Hai la melma Le calcagna Poi i calcagni Nella melma Supera Ok Superato Che sono mai arrivato io Faccio i martelletti La saponata E i martelletti Va come va Ok Con calma Con calma Con calma Ah ah No è vivo È vivo Si è salvato Come ha fatto Non lo so Ma fallo anche tu Se capitassi Piano 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 Ah Ah Ok 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 Ci sono C'erano tanti Ci sono Ci sono Vado Vado C'è ancora No Ce ne sono solo più due I am legacy E sarin Ecco Sono andati Siete passati in pochissimi Ma c'è il grande Credo di sì No non c'è È morto È morto Sono rimasti nove E quindi adesso c'è l'ultimo Probabile Oh grazie Questa squadra Ciao marcioff Ieri sera Per rispondere a marcio Chi mi chiede come vi sembra Questo battle royale Ieri sera alle due e mezza di notte Ho detto This basta Perché se no andiamo avanti Tutta la notte Oh Ok Io Sono in bleh Tu sei Non ti vedo No Ok No Vado in porta Vado in porta No troppo in difesa Datevi d'attacco Ci sto io in porta No No Mi sa che ho fatto uno Uno parla al centro Uno parla al centro Ce l'ho possibile Pareggio Pareggio per ora Butta la via Sposto sulla fascia Butta la via Vai Tira Spiggila Spiggila 2 a 1 In vantaggio In vantaggio Sì sì ok 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 È andata 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 Aspetta che ne arriva un'altra al centro subito Ne arriva un'altra al centro Lo prendo 4 a 1 4 a 1 Togliti Un povero pirata Che viene bullizzato No Aspetta torna in difesa No Ok Oh Discio 5 a 1 Il vantaggio sembrerebbe quasi incolmabile Ma c'è ancora un minuto e 13 di match Oh Discio Ok Doppia palla sulla fascia sinistra No Pallonetto Vai 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 Spiggila Sfiggila Ah ah Un tiro a fondo campo No Sfiggila 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 Un gran giramento di balle a sinistra Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Palo Il pirata salva Togliti Il pirata rafferrato 8 a 1 A 12 secondi 9 a 1 10 a 1 A 8 secondi Eh Vittoria facile Eh ora vai Ma vinceva Che faceva meno gol ma ti rimagini sorpresa sorpresa alla fine non te l'abbiamo detto siete rimasti in 5 ora sarà il meccinale onchelx nauter ok questo è quello della collina con la corona no? no questo è quello dei rombi dei rombi? si royal fumble no un altro ah c'è una coda devi avere la coda alla fine ooooh che cosa brutta chi parte con la coda? uno a caso credo non tu cos'è mai avessi di eccolo no è quella una coda è quella la no 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 ah eccola lo pisa lo pisa lo pisa lo pisa lo pisa no non volevo te vi afferrate dal tuo abbraccio amichevole ma inutile prendilo prendilo il poveretto che corre come un pazzo si tutto questo specifico che è ancora una beta quindi aspettatevi i bachi errori casini nooo 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 che brutta mazzata di lecca lecca dove è finito? sta la scarabobile al contrario e da quest'ora dall'altra parte del mondo ah no giro di qua lo intercetto no mi ha fregato è saltato guarda come tiene la coda da tutto il round 51 secondi alla fine ah nooo ho preso mi ferra un piccione dicendo ha la coda barra e invece no il piccione ruba la coda ma lui la riprende nooo zero nooo ma questo è bravissimo bravissimo mi sta sfuggendo da un sacco in due secondi e su sempre dalla scala mobile al contrario ma scappa nooo l'ha preso l'altro no che prima l'ha preso prendetelo bloccatelo datemi la coda manca 4 secondi voglio la coda nooo tuffo tuffo nooo in aria in aria guarda cosa plastica a cero mi mancava pochissimo protesto arbitri snap se volete delle chiavi chiedetela i mod avrei fatto un sacco di punti eeeh carino si ma niente di che allora siamo carichi malva l'obiettivo è al finale un duello tra mete va bene ci sto piattaforme oscillanti no ragazzi questo gioco è fantastico questa è è già fatto questo una vera battle royale no la prima volta che lo vedo ok piattaforme che si vanno bilanciate scendono col peso da un lato no che forza quindi sarebbe meglio restare al centro sarebbe meglio ma tu pensi che tutta sta gente stia al centro no no ci sono togli ti togli ti togli ti togli ti togli ti permesso permesso usi permesso permesso di bilancio ok prima c'è poi il fatto no eh ma se non vanno dall'altra parte eccomi no ok no il rumore non è una copia di me che muoio in un altro che ormai non posso chiaro dai dai ok 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 ce l'ho ce l'ho poi il fatto no non mi spingere giù un po' maledetto aiuto aiuto sono in una posizione in verticale maledizione sono in una posizione precaria scendi scendi no ok in qualche modo fatto questa piattaforma anzi bravissimi due persone che sanno la fisica dietro maolo risa dietro ok terzo c'è poi il fatto corri che baccafoco scusa scusa lupo dammi un'altra mano nooo toglietevi nooo lascia lupi di là non ce la faremo mai lascia lì ok 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 dai no dai no tutti qui no 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 se lo faccio no 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 sione Ok No Salite No No Alzatela Ok ora 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 No Eliminati al primo Malissimo Malissimo Siamo stati eliminati malissimo alla prima Quella g3 La mia sanità di mentale è meglio di no Non vuole la beta Irokin Bene, ora si riparo Direi che io potrei dire letteralmente disfare il pc Come la magi 3 Tutto bene Ok Dai ci dobbiamo rifare Paolo Sono d'accordo Sono d'accordo È ora di rifarci Ah ma questo è tipo tronco canadese Non so io sono uscito Ah sei uscito Oh cavolo Ah giusto Perché non ci sono Perché sono fuggiti entrambi Giustamente Dio l'avevo lasciato Perché in verità stavo chiacchierando E non ci ho fatto caso Però non lo volevo dire che sembrava brutto Che dire distratto malamente 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 Sto facendo una faccia Paolo si ti mette a sinistra con la cam Noi vediamo messo a sinistra con la cam Mi sono messo a sinistra Ma tutto a sinistra o parzialmente a sinistra? Tutto a sinistra A sinistra fino in fondo Verso lì Che non esistono più Cavolo no Voglio una rivincita su quello Su quella mappa Ma ho sentito una cosa Ho sentito una cosa Supporto Ma io l'ho visto Questo gioco qua nella Ma grazie mille della donazione Gentilissimo Deve essere mio Grazie mille Supporto Mi ricordo troppo Ho troppi ricordi dell'infanzia Legati a questo tipo di cose Oddio questo non l'ho mai fatto E ci sono delle porte che si aprono e chiudono Devi passare quando sono aperte E non quando sono chiuse È easy Molto easy Ok No No È un inganno È un inganno È un inganno Bene Non ti vedo Sono alla saponata Al fondo c'è un salto da fare Al fondo della saponata si salta Te lo dico perché Dead Ma benvenuto nel malamondo Grazie mille della sub Gentilissimo Tanti carlini per te Ovvio che son passato Cioè qui stiamo parlando Di un pro Top EU Best ravioli Contatemi in G3 Cosa ci dà Ecco la tua rivincita L'hai voluta ed è arrivata Sei contento Vai ci sono Ci sono Sei pronto Ci sono Allora ragazzi Ripeto le informazioni di servizio Questa è una technical beta Che dura Fino a domani Mi sembra che domani Tipo alle 2 del pomeriggio Si chiude Se ricordo bene Non mi ricordo l'orario So che fino a domani Perché il 2 del pomeriggio Non è il confuso orario Però esce tra due giorni Il gioco Praticamente ragazzi Esatto Che gioco è La battle royale Più fica Che hanno mai creato Era la battle royale Che mancava E noi non lo sapevamo Esatto No Su questa qua blu Dai Ci sono Ci sono Assetta Assetta su di equilibrio No No Non riprenditi Ok Io mi sa che sono ultimo Paolo Lo sai No Io sono creduto Malmente Ci ho provato Ma non ci ho neanche creduto In fondo Mentre lo facevo Ah Ok Io sono dietro di te Tranquillo Mi hai appena Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio No No Bene Ho fatto All'ultimo C'è Sali 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 Più e più volte Serve più alta Serve più alta Serve più alta Serve più alta Più alta E dai No No State tutti là sotto Maledetti No Più alta Più alta Più alta Guarda che bastardi Dovete venerdì qua Ho Passato Da ultimo sono arrivato La batteria real che non meritavamo E di più per il momento Non avevamo neanche bisogno Mi fa ridere la sufficiente Delissimo Ce la faccio No Tu sei passato Paolo Sì Ti vedo Ti vedo sull'ultimo saltino Ma perché sono rimasto bloccato con tutti quelli Uffa Vediamo Vediamo Paolo che vince questa Questo round Dai Niente pressione No no assolutamente Vediamo Da grande Mi piace quello del tronco canadese Adesso è figo No Non è figo È orribile Se è su buono del termine Ma è orribile Eccolo Trovato Non fate passare Perché così Ah Mamma mia Era sul filo del rasoio Eccolo Vediamo che si destreggia al centro Cerca di superare gli avversari Ora è sul viola Ritorna sul giallo Ancora sul viola Torniamo al blu Ecco rissa Rissa in campo Rissa C'è un giallo tranquillo Lasciatemi il giallo tranquillo No 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 Sto resistendo un sacco di gente Maledizione Eccolo viola Eccolo viola Eccolo viola Ritorna sul giallo Via 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 Si destreggia Solo 5 eliminati Solo 5 eliminati Ragazzi Le scommesse sono ancora aperte No 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 Adesso si Il rischio era troppo alto Ha deciso di Cambiare strada Permesso Nooo Dannozione Per non lasciarti così E guardarmi Grazie Lo so Lo so La tua gentilezza È leggendaria Io faccio l'ultima E poi vado a pranzo Va bene Quindi questa devi vincere Assolutamente Dobbiamo vincere Dobbiamo fare il duello finale Giusto La chat dice Dai Neanche io sono un gran fan Delle Battle Royale MacRage Però con gli amici È molto molto divertente No ma è troppo carini Poi ti vuola il tempo Cioè io neanche mi ero accorto Più di un'ora Che sto giocando A questo gioco Ma proprio Dico noi Risterò una dietro l'altra L'abbiamo fatta No ma mi ci voleva Dopo il point Quindi Com'è il point Bello Ma l'ho finito per sbaglio Come l'hai finito per sbaglio Sì Pensavo fosse un boss opzionale Invece era il boss finale E ho finito il gioco Avevo tipo un'altra Due zone da vedere E l'ho finito per sbaglio Però ti è piaciuto Perché me l'hanno mandato Dovevo Molto Mi ha divertito tantissimo Però Se non hai fretta Io aspetterei tipo Un paio di mesi Per far risolvere tutti i bug Perché è un po' Un lule no Una festa Ok no Io devo riuscire a finire No Questo livello Sì però Non dai Te lo faccio Anch'io Ok Più ci puoi E qua Cosa volete fare Se siamo tutti da questo lato di qua Te lo faccio Sono dietro di te Ma non solo Te lo faccio Ce l'ho fatta Con un taglio Ah 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 Oh 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 No 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 Sì 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 No Ah 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 Corri piccolo mal No 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 Ok 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 C'è poi Benissimo Ci sono Ci sono Ci sono No Sì vado Ah 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 Uh uh Dai dovete attrezzarla Se no non passiamo Andiamo a vedere Paolo Ragazzi Dov'è Ah No 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 Maledizione Eccolo Trovato Ah 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 Guarda come sta Vai vai Grande No no Ricupera Ricupera Ah 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 Non si alta Non si alta Non vedi di aggrapparti a me Lupo Benedetto Mi erano simpatici Lupo Prima di sto gioco Nooo Ma dai Ma perché non sta in piedi sto fagiolo Ah 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 Ecco Fagiolo malefico Ah 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 Dai tutti assieme No Tutti indietro E io così prima ci sono rimasto tipo un minuto e ho perso Ecco Ah 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 Però se me la chiami Scusa Ah 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 Ma no c'è uno vestito ad un dog lo voglio Sì è più avanti Mi sembra intorno al livello 15 16 Non c'è una roba in genere C'è il vestito ad un dog C'è un studio da Apollo Da leone Ho visto Il prossimo è il piccione No Il piccione no Il piccione malefico Io adesso sono fortissimo Non ne abbiamo fatto una volta sola Eccovi Eccovi qua Passa laterale per evitare la folla Eeeeeee E già le balle che scendono Ok ok ci sono ci sono Ho capito Ci sono Prendi un Palla in faccia malamente Cambia corsi e passa Eee No Sembra sapere cosa sta facendo Passa al centro Ah Ok Perde il tempo sull'ultima piattaforma Non si è ancora qualificato nessuno Prima arrivano sulla rampa finale Primo qualificato No Sì 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 Ok Passa Passa Si qualifica per il terzo round Dai dai Ci sono ci sono E' fatta E' fatta Sono carico Vittoria sicura Vediamo un po' con chi sto Ehi C'è Della gente strana Cosa devi fare Alle uova Un'altra squadra Ah Cavolo Ok Allora Ti faccio da coach Vai Quando hai preso le uova Al centro E' portata da te Guarda chi ne ha meno Delle altre squadre E concentratevi Su quello che ne ha meno Tanto non passa solo una delle tre squadre Quindi basta non essere l'ultimo Ok No Lasciami Voglielo Lascia Voglielo Voglio il tuo No No Dov'è Aspetta che ti metto Non stavo inquadrando te Guarda Lasciami Uh Il gran pareggi Ok Se la prendo con la squadra gialla No Non riesco a soldare Non mi fanno salire Non riesco Non riesco a uscire Sembra facile Ma Non ci riesco Ok C'è un uovo Vado a prendere un uovo Ok Le uova dorate Vanno a 5 punti No No Noi stiamo Stiamo perdendo La stragrande Eh Sì Ok Riuscite a saltare E' dovuto fare un salto No Lascia il uovo Recuperiamo Quanto manca Adè Che recuperiamo 20 secondi Ah Dovevo giocarla al centro E' colpa della mia squadra Che conto che non sai fare i salti Oh beh Ci ho provato Paolo Grazie mille Delle partite Sei stato gentilissimo Grazie a te È sempre divertente Giocare con te Tra qualche secondo Ti veniamo a trovare Va bene Io intanto Metto su un altro team Va benissimo Ciao Paolo A dopo Ciao Rieccomi ragazzi Scusate Troppo carino questo gioco Veramente Veramente carino Però no Non mi fa uscire Fammi uscire dal gioco Però Ok Veramente Veramente carino Ragazzi E' Fa qualcosa Di spettacolare Allora ragazzi Grazie tantissimo A tutti quanti Della compagnia Grazie Delle chiacchiere Siete stati Gentilissimi Come sempre Io vi auguro Ripassare Uno splendido Sabato Noi ci vediamo Come al solito Domani mattina Intorno alle 8 Molto probabilmente Faremo Tutta una mattinata Fall Guys Credo Così almeno Martedì Quando esce Saremo Non pronti Ma Stra Pronti Ragazzi Grazie ancora a tutti Restate qui Che andiamo a trovare Il buon Paolo Ciao 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 Grazie per la visione!